Sai Pino che a inizio puntata dicevo che per via del Covid da più di un anno qualsiasi cosa mi fa una persona non me la prendo, non mi arrabbio, no? E uno di questi è padre Ralf, che è evidente che è un troll ed è altrettanto evidente che provo, che dice il governo Conte sta per finire, spero solo che la destra non vada al potere o saremo alla fine, l'unica salvezza per il paese è Matteo Renzi e l'affascinante Elena Boschi, inutile che ci prendiamo in giro. Eh vedi, questo è uno che ha capito tutto, ha capito al contrario però, però ha capito Ma sai quanti ce n'è di cerebrolesi così? Sai quanti? Ma secondo me è un troll, padre Ralf Eh ma padre Ralf perché poi non hanno neanche le palle di mettere la loro foto con il loro nome, no? Come quelli che parlano male, no? Uccelli di rogo Ahahahahha